Sono Manuela Appendino, ingegnere biomedico, bioeticista e fondatrice della community per donne biomediche WeWom Engineers. Attualmente faccio l'ingegnere biomedico come freelance e diciamo il mio ruolo principale è quello di aiutare i medici ad utilizzare al meglio le tecnologie che abbiamo a disposizione per i pazienti. Quindi supporto i medici nelle sale operatorie, do loro dei consigli e cerco di lavorare facendo appunto un lavoro di squadra. Ho sempre sognato questo tipo di lavoro perché sin da bambina mi è capitato di indossare un apparecchio per i denti e da lì sono rimasta affascinata da tutto ciò che riguarda la ricerca per i materiali, per le tecnologie. Mi sono portata dentro questa passione sino alla scelta poi dell'università che è ricaduta sul mondo ingegneristico e in particolare il mondo biomedicale. Se dovessi dirvi tre caratteristiche che mi hanno accompagnato fino ad oggi in questi anni soprattutto per la mia esperienza da biomedico sono diciamo come primo elemento la fortissima curiosità per un mondo che si evolve che cerca di portare benessere ai pazienti e delle soluzioni tecnologiche sempre più evolute e quindi un po' la curiosità di approfondire sempre il mondo tecnologico utilizzato nel mondo sanitario. La seconda è la diciamo la determinazione nel voler portare avanti una missione non solo come ingegnere ma una missione anche etica per riuscire comunque attraverso il mio supporto tecnico ad offrire un'assistenza maggiore agli utilizzatori di queste tecnologie che non sono solo i pazienti ma sono anche i medici, gli infermieri e di conseguenza tutto il personale sanitario. La terza cosa è l'apertura mentale perché ritengo che sia veramente importante in un'epoca come quella che stiamo vivendo oggi dove anche attraverso la comunicazione con i social sia possibile comunque conoscere altre persone, potersi confrontare e potersi contaminare a vicenda sulle esperienze vissute insieme e magari da lì generare nuove idee.